Spalanca le finestre a mezzogiorno e non lo si vede arrivare. È curioso ed invadente il vento quando sale incontro all'Adige per visitare le sue terre. Ma è tra i sassi del fondo valle e lo scricchiolare dei suoi sentieri che il vento si placa. Tra le mura di un borgo antico ricco di memoria, gli eventi hanno fermato un'epoca. E le chiese e i masi ne condividono la storia, con chi arriva e chi va. Come certi ricordi, che hanno sempre un episodio nuovo da narrare. Terre d'Adige è un paese ricostruito nel tempo. Uno spazio aperto dove i contadini contrattano con la terra ricompense preziose. E le cucine non sono mai disposte a riposare. E anche quando la neve cambia profilo agli orizzonti, le cime diventano un'altra volta ospitale. Non esiste una stagione sbagliata per stare insieme. E il vento lo sa. Perché qui, a muovere l'aria, sono le persone. C'è sempre una ragione per sentirsi a casa quando arrivi qui. E a doverne scegliere una, stare bene prima di andare via, è sicuramente la più convincente di tutte. Del resto, se il fine di una casa è quello di essere abitata, quello di un territorio è quello di essere raccontato. E a doverne scegliere una, stare bene prima di andare via, è sicuramente la più convincente di tutte. E a doverne scegliere una, stare bene prima di andare via, è sicuramente la più convincente di tutte. E a doverne scegliere una, stare bene prima di andare via, è sicuramente la più convincente di tutte.